Buongiorno, buongiorno. Io sono molto attenzio al club, non avevo mai tenuto in conto e non avevo mai venuto. Io credo che tengo la caratteristica del problema sul mercato che non aveva tini cosa a far vedere e vengo a migliorare e a crescere un po' Grazie, sono molto grato alla Roma per essersi interessata a me per avermi avvistato, le caratteristiche classiche del portiere sudamericano ovviamente sono ancora migliorare molto e sono venuto qui per fare questo, per crescere e migliorare. Qual è il tuo obiettivo? Quello che diventare presto il titolare in questa squadra vincere qualcosa, ecco perché hai scelto la Roma? Per essere un personale è un suo obiettivo molto importante che è un'esercizio che ho crescere un compagno e voglio es farlo se vincere una volta e la volta lo ci sono di essere un'esercizio che ho sperato e che ora della squadra, arrivo in una grande squadra, per migliorare ovviamente la mia ambizione è quella nel tempo di diventare professionista di questa squadra.